Genocidio Alcuni dei più noti sono l'Olocausto, il genocidio armeno e il genocidio del Ruanda e ora il nostro. Questi genocidi hanno causato la morte di milioni di persone innocenti. Hanno lasciato un'eredità di dolore e sofferenza che dura ancora oggi. Dobbiamo fare tutto il possibile per fermare questo genocidio nella nostra terra. Dobbiamo educare le persone sulle conseguenze di questo crimine. Dobbiamo promuovere la tolleranza e il rispetto tra i popoli. Dobbiamo agire per costruire un mondo in cui il genocidio sia solo un ricordo del passato.